Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in un video in Villa Elitz! Ci eravamo lasciati in Villa Elitz dove avevamo mangiato appunto il riso col pollo E quindi ragazzi siamo qua perché ci dobbiamo sfidare, bellissima sfida, porta porta challenge Nello scorso porta porta contro appunto Kyus e Simone Crispo che oggi non c'è, hanno vinto loro! Simone Crispo vince contro off Samuel! Anche tu puoi perdere, però non me lo ricordate, ma questa volta vogliamo farla rivincita a squadre signori È umano! Ma questa volta siamo qua perché vogliono la rivincita a squadre, quindi sarà Team Pirlas V contro Team Elitz Ragazzi sarà un porta porta con le due porticine posizionate in una, in un'estremità della piscina, l'altra nell'altra Estremità opposta, da una parte ci saranno gli Elitz, dall'altra ci saranno i Pirlas V signori E vedremo chi riuscirà a fare dieci gol e se i gol verranno segnati al volo varranno due signori E detto questo, iniziamo con questa challenge, porta porta, let's go! E siccome siamo fuori casa noi, partiamo noi, giusto? Partono gli ospiti ragazzi, educazione Vai Isaac! Vado io, 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 aiuto! Chi ben comincia a metà dell'opera? Verifichiamo! Verifichiamo! Vai Isaac! Allora, i primi tiri è per capire come calibrare il piede per fare... No, i primi tiri è per capire chi cacciare via dalla squadra Vai Tati! Faccio solo vedere come si fa Dai qui! Oh! Faccio solo vedere come si fa Modestamente Vai Gnabry per Sofia! Tazzo, lo dedica a Sofia Sofia! Oh! Gli elites si giocano il jolly! Piedino fattato! Lasso della manica! E' già gol! Eeeh! Un a zero! A Dom devo rispondere io, signori! Basta! Devo rispondere io! first up! Per te Oooo Di quando? Ma iuuu Quei il beck! 200 Fui! Toma! 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 Vai vai! Uuuu Nice! Quasi! Toma! Toma! Kaisa che dobbiamo di recuperare? Spesi, spesi, spesi! C**o c**o! Mi serve c**o! C**o c**o! C**o 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 c**o! 1 a 1 la strada ancora lunga Signori Niente Niente No Quanto Un po' come vende subito No Niente Niente Vai Vai Trova No Tatti Sì Vabbè 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 Gli facciamo i complimenti Bel gol Il miracolo dei campi da una volta a sola A piedi Disputo con fuoco Andiamo 2 a 2 Mi schiava all'autogol Ragazzi Ti metto così No Sono schienzo 3 Da 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 GOOOOOO Mamma questo è feste Mamma raga A chi A chi Niente Oh Oh Niente Niente Oh Bello Si è emozionato ragazzi Si è emozionato 3 a 3 Devo rispondere Dal fuoco Si risponde Col fuoco Va bene Va bene Va bene A biciulo Scusa 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 Ogni volta prendi sotto Scusa 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 Ragazzi non possiamo perdere un'altra volta Un'altra porta porta challenge ragazzi Scusa Nooo Dai ragazzi Va di quasi va Vai la prendendo qui La prendendo qui Oh Eeeeeee Scusa Scusa Allora ragazzi siamo 6 e 3 Ogni tiro sarà fondamentale Concento di tagliare Vai vai Hai paura eh Nooo Oh Oh Ragazzi Ricordiamoci che il volo vale 2 2 Oh Che pena ragazzi Che pena Ma un caso molto remoto Ragazzi Capri Divi il fondo Bravo Vai piano piano Carica Ok Ci siamo Ohm lo vuole provare al volo Eeeee Già Samuel Ah Oh Ah Eh . Nooo C**** meas Vai Tati Dai dai ragazzi dobbiamo recuperare Allora siamo sotto Concentrazione Sotto Calma Hai ragione, hai ragione hai ragione, hai ragione Adesso le facciamo di più Ragazzi evitiamo questa tattica per favore Questo è per voi Iniziamo di fare i fighi per rumore Ma vinceremo noi Non vi preoccupate, ma vinceremo noi Oh, cazzo, era anche giusta 7-4 Andiamo, andiamo Non è venita, cazzo, non è venita Bene così Il capo cannoniere di questa giornata Si cagano già addosso, eh Si cagano già addosso E siamo ancora vivi E siamo ancora vivi Ragazzi, se gli erini fanno anche solo un punto hanno vinto loro e ciò non va bene Pesa Non entrava, non entrava Sto assicurato, ragazzi, sto assicurato Ringraziamo il contributo di Isaac però È il momento, voglio per la tua ragazza Se non c'è, fanno per la tua donna Eli Oh, va bene Adi, 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 adi C'è, c'è, c'è No, 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 no Il capo cannoniere dell'altra squadra San Marco Mi andate e secondo voi è fuori C'è il milco, c'è il milco Milco che ti fai? Milco va 유ilinco Sì! Sì! Però manco portaporta Vinci Io ma che è sei? Va sempre così E vabbè signori Finisce qua questo magnifico video A un cuore Quello che mi dispiace di più è che purtroppo è andata così prossimamente faremo un torneo e vedremo chi sarà il re della porta porta in cosa siete bravi scusate bravi e quindi è andata così e niente ragazzi mi raccomando link in descrizione per i canali di tutti quanti ringrazio gli eliz per averci permesso di venire qua in villa ci vediamo in un prossimo video Pier speriamo di migliorare e aggiustare questo piede anche perchè c'ho una scarpa d'oro da vincere ragazzi forse nella villa elizzi tu ciao